Il valore è questo, noi come ti ho detto prima sono più di 10 anni che vado in Uzbekistan e spero che con questo ulteriore ingresso da parte del Ministero ci sia delle evoluzioni indispensabili per noi e per l'altra società pratica che lavora con noi, speriamo che si migliori e vada avanti ancora di più il lavoro, tutto qua. È molto importante soprattutto perché si tratta di un gruppo di imprenditori dell'Uzbekistan ma non sono imprenditori, sono produttori di pelle e di calzature, settori storici di tradizione secolare anche in Uzbekistan, quindi anche di tradizione storica artigianale dell'Uzbekistan e noi siamo molto contenti di aver avuto questa occasione oggi da stamattina che abbiamo avuto anche un incontro importante con la Confindustria territoriale, con la Confindustria Toscana Sud dove ci è stato illustrato il potenziale industriale ma anche delle zone di Arezzo, Grosseto e Siena quindi abbiamo conosciuto tante cose sulla realtà industriale di questo territorio dopodiché abbiamo avuto questo incontro molto interessante, molto importante qui presso la Tecon presso l'azienda Tecon con la quale tra l'altro ci sono rapporti che durano ormai da molti anni quindi abbiamo potuto vedere qui l'azienda, quindi il processo produttivo abbiamo conosciuto altre due aziende importanti di questo settore, del conciario e del calzaturiero e quindi il nostro obiettivo adesso è anche con forte sostegno del governo promuovere il nostro prodotto che sono le pelli ma anche le calzature fatte in Uzbekistan e diciamo di promuovere questo prodotto commercialmente in Italia quindi noi siamo disposti a vendere, siamo disposti a portare avanti una collaborazione commerciale proprio con dei potenziali partner italiani quindi noi siamo pronti, siamo molto interessati e bisognosi anche della collaborazione, della cooperazione quindi anche come è stato detto oggi è stato rilevato che praticamente dobbiamo anche noi perfezionare sempre continuare a perfezionare i nostri processi di produzione per poter arrivare a produrre un vero prodotto di qualità che poi può essere richiesto in Italia quindi noi siamo venuti qua per cooperare commercialmente con l'Italia per offrire le nostre possibilità di produzione, di localizzazione in Uzbekistan di eventuali produzioni anche italiane ma di tutto il mondo quindi chi è interessato a produrre in Uzbekistan e poi a vendere il suo prodotto nei mercati limitrofi che sono tanti, che sono grandi e quindi è benvenuto quindi noi abbiamo le buone possibilità i nostri costi di produzione sono abbastanza bassi quindi se ne può approfittare ampiamente noi tanto ringraziamo l'azienda per l'invito fatto a venire all'amministrazione perché crediamo fortemente che sempre di più si dovrà cercare una collaborazione da quello che è il tessuto economico del nostro territorio che deve vedere nell'amministrazione un partner collaborativo per qualsiasi situazione che si possa creare è normale che sempre di più dobbiamo andare a cercare queste collaborazioni anche fuori dal tessuto locale quindi benvengano tutte le opzioni di collaborazione internazionale quindi ci fa piacere che il nostro territorio sia stato oggetto di visita da parte dell'Uzbekistan questa è solo una delle tante tappe che ci auguriamo che possano essere supportate e possano continuare anche nel tempo per far partire nuovi processi di collaborazione per aiutare il nostro settore economico locale a crescere e a guardare anche oltre i nostri confini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.